Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva. Abbiamo sentito già nella pagina di cronaca il presidente della Lucchese Andrea Bulgarella intervenire sullo stadio. Il presidente è stato sollecitato anche sul futuro della Lucchese per tranquillizzare i tifosi che aspettano degli investimenti. Presidente ha preso tutto in mano anche per quanto riguarda la squadra. C'è un nome nuovo, Ferrarese come DS. Cosa devono aspettarsi i tifosi per la prossima stagione? Devo aspettarsi quello che voglio aspettarmi anch'io, quello di vincere. Io sono qua per vincere, poi è normale, non sono un presuntoso, posso pure sbagliare. Però quest'anno ci devono essere i presupposti, io ho preso la seduzione in mano in tutto anche per quanto riguarda la squadra. Questo ragazzo mi convince perché ha l'entusiasmo mio che vuole vincere, mi sembra anche preparato. Io l'ho scelto come mia persona di fiducia per il mercato e quindi dobbiamo andare avanti pensando sempre però di vincere, non di passare un anno di transizione. Io farò la squadra per vincere, ci dobbiamo credere tutti, io ci credo. Dal calcio al pugilato dopo anni di attesa un pugile lucchese torna a vincere una medaglia d'oro in un torneo internazionale. Sascha Mencaroni, categoria IUT, 51 kg, ormai veterano della nazionale italiana. Akumanovo in Macedonia ha conquistato il primo posto nel prestigioso torneo internazionale Miroslav Petrovic e ha vinto anche il premio come miglior pugile della manifestazione. L'allievo di Giulio Monzelis era con la squadra azzurra già a metà della scorsa settimana dopo un percorso di ritiro federale ad Assisi Akumanovo. Ha vinto due incontri senza alcun cedimento. Ed ora siamo al campionato nazionale dilettanti. Dopo tanti anni la provincia di Lucca non ha più quattro squadre, ma soltanto tre, Seravezza, Tao Calcio e Ghivi Borgo. Sono state diramate le date dei calendari. Scatterà domenica 8 settembre il prossimo campionato di Serie D che questa stagione vedrà in astri di partenza solo tre formazioni della nostra provincia. Il Seravezza Pozzi, il Ghivi Borgo e il Tao Alto Pascio dopo che è retrocesso in eccellenza il Real Forte Querceta. Le date sono state rese note dal Dipartimento Interregionale Per portare a termine il girone d'andata entro Natale sarà quindi necessario un turno infrasettimanale per i gironi a 18 eventualmente tre per i gironi a 20 squadre se ci saranno. La Coppa Italia scatterà invece domenica 25 agosto con il turno preliminare e proseguirà con il primo turno la domenica successiva ossia primo settembre. Si incomincia quindi già a pensare al futuro peccato che non ci sarà come negli anni scorsi quattro formazioni alla via in questo campionato di Serie D il Real Forte Querceta dopo diversi anni che è stato protagonista insieme alle altre purtroppo mancherà. E adesso andiamo all'hockey. Il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che in futuro la sezione hockey della società potrebbe essere indipendente dal torneo di calcio torneo di Viareggio, torneo internazionale che fino ad oggi è stato anche il volano per mantenere la squadra di hockey. Il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi nel corso di una conferenza stampa ha annunciato che ci potrebbero essere novità per quanto riguarda il futuro della sezione hockey della società stessa ossia potrebbe avere vita indipendente non condizionata dagli introiti che arrivano dal torneo di calcio che è modificato rispetto al passato e quindi si sta cercando all'interno della società di rendere indipendente la sezione hockey ecco perché è stato allestito un organigramma tale da poter in qualche modo già organizzarsi per il futuro. Lo stop che abbiamo avuto a causa del covid ci ha insegnato tante cose abbiamo riflettuto, abbiamo visto che il torneo è cambiato non sono più i tempi delle vacche grasse vogliamo mantenere viva la disciplina del hockey del Centro Giovani Calciatori perché rappresenta qualcosa di molto importante per Viareggio ma storicamente anche per l'attesa nazionale perché io credo che i giocatori che ha dato alla nazionale italiana il Centro Giovani Calciatori siano una cosa di poche società vogliamo fare questo e quindi l'impegno è di crescere nella ricerca delle risorse finanziarie e umane per portare avanti un nuovo progetto teso a rendere il più possibile la sezione hockey indipendente dal torneo e quindi dargli più sicurezza. Con questo termina la nostra pagina sportiva di oggi breve break poi c'è la terza parte del telegiornale. Grazie a tutti